Mi sono morto, ho deciso di parlare di nuovo al catechismo. Io che sei, parlare di nuovo al catechismo? Ma posso te ne frega che sei buddista? Posso te ne frega? Stai scherzando o scherzo? Ho detto che hai scritto la catechista. E cosa hai scritto alla catechista? Io ho detto, mia moglie è buddista e... Ma stai scherzando? Tu sei andata a dire alla catechista che io sono buddista quindi non mandi più mio figlio al catechismo perché io sono buddista? Mi sembra di farti un pezzetto? Hai sentito che cosa ha detto tuo padre? Io non sento la catechismo e voi siete grandi abbastanza Yes!